buongiorno come mi è stato richiesto da diverse di voi su instagram vi faccio fare un giro veloce anche qua su youtube della cameretta dei bimbi addobbata in questo periodo di halloween e di autunno che come sapete uno dei nostri periodi preferiti dell'anno allora non entrerò nello specifico del mobilio è perché lo trovate nei video precedenti dedicati alla cameretta che vi lascio linkati qua sotto nel box informazioni allora qui abbiamo innanzitutto queste decorazioni che purtroppo non è facile mettere a fuoco sulla porta che si illuminano di notte sono gli occhietti questi sono tutte decorazioni di legami che hanno regalato i nonni ai bambini sono riutilizzabili quindi tutti gli anni si possono riutilizzare appunto questi sono i costumi che useranno quest'anno i bimbi ad halloween quello di sebastiana lo stesso dello scorso anno l'avevo preso su vintage gli piace ancora lo vuole ancora indossare quindi non ho preso uno nuovo stella invece ha voluto quello da mercoledì eccolo qua l'ho preso di seconda mano anche questo poi di qua abbiamo l'armadio ve l'ho fatto vedere nella diretta di qualche giorno fa ve lo lascio linkata sotto anche quella se volete recuperarla vi racconto tutto ciò che vedete all'interno di questo armadio e tutte le nostre scelte appunto a tema sostenibilità legata all'abbigliamento dell'ultimo periodo qualche altra decorazione questo di qualche anno fa gli aveva regalato mia suocera al cerchietto un po da stregona qua sopra abbiamo tutti i peluche dei bambini sostanzialmente tutte cose obs e mio poi gli altri arrivati negli anni questo era di un saggio di stella quello l'ha regalato mia madre quello mio cognato questo mio cognato questo mio cognato insomma tutte cose degli anni e questa invece è la borsina sempre di legami che ha regalato mia suocera stella per fare dolcetto scherzetto ma poi stella la indossa proprio come borsa qui abbiamo la città dei lego e le bambole di molarroti e ci hanno messo queste lucine noi usiamo le batterie quelle ricaricabili che invece ha portato mia mamma da un viaggio che ha fatto ha regalato ai bimbi tre tipi diversi ma sono in altre stanze di queste lucine molto carine che loro tengono accese la notte fanno veramente una bella atmosfera ok poi qui abbiamo le collanine di stella e la mala di yoga di stella erano di mia nonna con le collane però lei le usa glielo lasciate questo pure si illumina ed era di un saggio di danza di stella di due anni fa poi qui abbiamo reparto libri abbiamo come sempre l'albero durante le stagioni di molarroti e sotto i libri a tema e lì tutti i pupazzi di sebastiano questi sono veramente i nostri preferiti quest'anno è arrivato nuovo questo dedicato ai fantasmi l'anno scorso avevamo preso quello delle streghe questo invece l'ho preso di seconda mano vite di gatti straordinari veramente sono bellissimi questi libri e qua c'è tutta la selezione dei libri di halloween questo l'ho preso in biblioteca ma ci è piaciuto tantissimo ora lo comprerò sicuramente nuovo vi lascio sempre qua sotto anche tutta la selezione qui nel box sotto con i libri di halloween che ci piacciono e c'è al di là che è stupendo c'è giochi di streghe giochi di fate e anche qui sul canale trovate questi libri li trovate tutti la piccola strega li trovate tutti raccontati perché insomma sono proprio i nostri preferiti questi libri poi spostandoci da questa parte abbiamo l'orrore di questa pianta che vi avevo raccontato che canta cioè no un po canta e un po ripete quello che si dice orribile che ha comprato mio marito a sebastiano quest'estate che l'avevo persi di vista a due secondi a un mercatino in puglia e vabbè soprassidiamo qui c'è il drago della sclage che è bellissimo adoro altri libri tutta la serie di mortina il bestiario e dolcetto scherzetto questo l'ha comprato mio marito poche settimane fa per i bambini lo stiamo leggendo e poi abbiamo la scuola di magia che è un gioco di della geco molto molto carino che stiamo facendo in questo periodo sotto tutte sempre i soliti giochi quindi non ci sono assolutamente novità anche dei giochi ve ne avevo parlato sicuramente si è aggiunto la montagna incantata questo che è un gioco che vi straconsiglio i miei figli lo amano è un gioco sciocco diciamo però veramente molto carino che a loro piace tanto ha preso dei premi quindi insomma se avete figli dell'età loro dei miei ve lo consiglio veramente molto carino noi l'abbiamo preso alla città del sole ma credo si trovi e ve lo lascio sotto se riesco a trovarlo comunque da qualche parte online qui i soliti lego cose musicali insomma i soliti giochi che già conoscete di cui vi ho parlato da questo lato ho messo altri libri perché non c'entravano quindi ho riportato su dalla cantina quello e ci ho messo dentro altri libri e qui altre decorazioni queste sono tutte le vetrofania sempre di legami che si possono riutilizzare ogni anno questa boll abbiamo preso un paio d'anni fa la morte che i miei figli piace moltissimo altre vetrofanie ancora lì sopra e direi basta poi ovviamente sui comodini dei bambini ci sono dei libri diciamo a tema sebastiano si è messo gozilla mentre di qua stella si è scelta questi tra cui questo che ne avevo parlato bene insomma ve lo leggerò meglio perché mi è piaciuto tantissimo questo holly e il gattino sperduto che è stupendo e quest'altro che invece mi è stato regalato da una di voi che ringrazio ancora tantissimo che è piccola volpe le foglie d'autunno che non è halloween ma è tema autunnale ed è stupendo infatti lo teniamo qua sul comodino stella si è attaccata un sacco di roba sul suo comodino e niente questo era tutto l'addobbo di di halloween se poi avete altre domande insomma me le potete lasciare e mi fa sempre piacere quella una sedia nuova che ci ha regalato un amichetto di stella che lui non usava più io adoro questa cameretta mi piace tantissimo e soprattutto mi piace tanto l'armadio aperto così no non fa polvere se qualcuno me lo chiedono spesso ma no almeno non particolarmente a noi ci piace proprio tanto questa cameretta vi saluto e grazie per essere stati con me anche oggi qualsiasi domanda o dubbio scrivete sotto ciao ciao